Ben trovati, sono proprio stupidi questi politici, inseguono loro stessi l'antipolitica, secondando il taglio al finanziamento pubblico dei partiti e tutto quanto che a loro dire potrebbe apparire demagogico e populista e poi tentano di riciclare la propria immagine con noi cittadini facendo e dicendo sì lo faremo e poi non lo faranno di fatto. Io già ieri ho detto che il finanziamento ai partiti ci vuole perché la politica costa, non ci vuole lo spreco come i rimborsi elettorali perché loro dichiarano una media di 10 milioni di euro di spese elettorali e poi ne ricevono 50 mila. Ma perché sto ripetendo questo? Per mettere in risalto la loro assenza di coraggio per dire e confermare che il nostro rispetto per i loro riguardi non ci può essere perché non sono uomini con la spina dorsale, tutti quanti e a maggior ragione le maggiori responsabilità le ha secondo me una sinistra che non è assolutamente socialista, socialdemocratica, riformista, progressista, chiamatela come loro vorrebbero chiamarsi o essere ritenuti ma che non sono poi perché manca il coraggio di fare un governo per questa nazione. Un po' io penso quando negli anni 80, ma io andavo a scuola, Bettino Craxi voleva l'alternativa di sinistra, voleva l'unità socialista e siccome il comunista Berlinguer e il partito comunista che poi venne negli anni a seguire con per esempio il segretario nazionale Alessandro Natta erano chiusi da questo punto di vista, lui si rese conto che doveva accelerare, per cui doveva smuovere il sistema, decapitare l'inflazione, far crescere l'economia, qualcuno potrebbe non essere d'accordo su quell'azione di governo, però di fatto questo voleva e questo poi avvenne e chiuse l'alleanza con anche la democrazia cristiana, ossia i nemici storici di una sinistra democratica, riformista ed anche comunista e governò il paese. Bersani non sta avendo questo coraggio dicendo mettiamo all'angolo Berlusconi, governiamo come dire con la parte migliore, secondo il suo modo di vedere, del popolo delle libertà, ma sono doppiamente stupidi, oltre a non saper cavalcare il momento, oltre a decapitarsi per quello che potrebbe essere poi il futuro impegno politico, perché sono loro che avallano la critica agli sprechi della politica. Un telespettatore mi ha mandato un'email interessante in cui si fa un'analisi di quelli che sono gli sprechi in questo paese, che non sono soltanto legati alla politica e ve la voglio leggere perché è interessante. Allora, il Consiglio Superiore della Magistratura, ossia l'Organismo Supremo che, come dire, governa il potere giudiziario al capo del quale c'è il Presidente della Repubblica Italiana, ha un budget annuale di 35 milioni di Euro, 35 milioni di Euro. Più oscure invece restano le logiche di alcune voci di spesa. Innanzitutto il personale, che da solo assorbe più della metà del bilancio, 19 milioni di Euro, con una stratosferica cifra stanziata per gli straordinari, ossia il personale che fa gli straordinari vengono riconosciuti ogni anno 630 mila Euro. Nella pianta organica del Consiglio Superiore della Magistratura compaiono 30 persone addette ai servizi ausiliari e all'anticamera dei consiglieri, 8 dattilografi negli uffici studi, 20 usceri e 20 autesti. Di questi sembrano veramente tanti per un unico organismo, ossia 20 usceri e 20 organismi nel Consiglio Superiore della Magistratura. Tutti i consiglieri, ascoltate bene, dispongono dell'auto blu, mentre il Presidente Michele Vietti ha a disposizione soltanto una Maserati. Benefit che si sommano ai lauti stipendi, perché Vietti percepisce 300 mila Euro. Chi è Vietti? Vietti è stato nominato qualche anno fa Vice Presidente del CSM e fino a qualche anno fa era proprio quella politica che veniva contestata, per cui non è come dire un unto dal Signore o qualcuno, anzi è stato unto dal Signore per l'incarico preso, ma non è che venisse da Marte. Vietti era un esponente dell'allora Udc, ecco chi è Vietti, un mediocre politico e mediocre non inteso in senso dispregiativo. Prima guadagnava circa 150 mila Euro facendo il rappresentante del popolo, ora ne guadagna 300 mila, per questo solo passaggio di ruolo riesce a percepire un utile maggiore di 150 mila Euro l'anno, ma ancora, questo è il Presidente, 300 mila, poi vi sono i 115 mila a ciascun consigliere, più una cifra forfettaria di 750 mila Euro, anzi ho sbagliato, scusatemi, una cifra forfettaria poi a ogni consigliere che percepisce già 115 mila Euro, di 75 mila Euro come indennità di presenza, per cui 115 mila più 75 mila fa 180 mila, anzi no, 190 mila Euro che vengono intascati dai consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura. Infine c'è un mistero sui fortunati beneficiari, perché non si conoscono i nomi, che annualmente per incarichi esterni prendono 703 mila Euro. L'altra chicca, che risulta da un'ultima spesa nota che si è riuscita a conoscere del Consiglio Superiore della Magistratura, hanno speso 17 mila Euro per smacchiare i tendaggi. Ecco perché questo Paese non cresce, perché realmente le caste vogliono e devono essere preservate. La politica è incapace di reagire e la politica è incapace a dare risposte. Poi non vedo il motivo per cui si debba la politica incavolare proprio con chi paga le tasse, non arriva a fine mese ed è incazzato nero proprio con coloro che potrebbero riformare questo Stato e invece non lo fanno. A domani.